Musica Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi ragazzi continuiamo con gli LTS Vi devo dire un'accusa Purtroppo l'LTS che ho fatto se non mi sbaglio sabato Sniper vs Stunters Mi è stato bannato da Youtube per motivi diciamo un po' deficienti Perché questo? Perché mi hanno tolto il video Perché mi hanno detto in un'email che ho barato E ho praticamente approfittato dei tag per fare visualizzazioni Ed non è affatto vero perché quel video ha preso le normali visualizzazioni di sempre Cioè 300 e 350 E purtroppo mi hanno bannato il video Adesso non lo ricarico più perché non lo vedebbe nessuno E ho deciso di fare un altro LTS così Così almeno per coprire quel buco di quel video Facciamo questo qua Quindi con noi c'è Lucain Saluta Poi c'è Assassin's Creed Che è sempre con noi E c'è anche Amico Fritz Che purtroppo non ha potuto ancora comprarsi il microfono Visto che ha preso l'altro giorno la Play 3 E se lo comprerà il più presto possibile Poi magari ragazzi quando farò i video solamente con lui Lo sentirete perché si registrarà la voce in maniera diversa Però comunque si prenderà il microfono il più presto possibile Oggi abbiamo accelto Insurgent vs RPG Ed è un altro LTS veramente incasinato Possiamo partire subito E ovviamente ci vediamo dentro l'LTS Ok ragazzi partiamo Che cos'è qua? Che macello è? Oddio Iniziamo con gli RPG ragazzi Perché ci sono i dump? Perché ci sono i dump? Oddio perché ci sono i dump? Eccoli che arrivano Eccoli che arrivano Madonna l'ha scantato Eccoli Madonna Oddio Dobbiamo cercare di farcela Ragazzi E' un mega bordello Attenzione che arriva 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 E' un casino c'è entrare Di nuovo Pensavo che andasse sopra Ragazzi pensavo che andasse assolutamente sopra Eccoli 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 Mò prendono l'incorsa Prendono l'incorsa Eccoli Eccoli che arrivano Tutto rilento Allora ragazzi Dobbiamo cercare di prendere Di riuscire a Sì L'abbiamo preso Vai L'abbiamo preso ragazzi Bisogna usare gli altri colpi Per prenderlo Perché è un po' In casinata Ah Fritz è morto L'amico Fritz Si è senti ammazzato Quindi dipende solo da me Il destino di questa partita Sono tutti sotto Purtroppo Però L'ukin Ecco l'ukin Che c'ha stanza per missile Ancora una volta Dobbiamo cercare di prenderlo Ragazzi E' un po' Incasinata la situazione Eccoli Comunque ha preso lo scoppio Eccolo Eccolo Si vabbè Che è sto lag adesso Ragazzi qua La lag ha il macello Veramente Allora Quello sta lì Eccolo 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 Ha cambiato a strada Vastardo Ma che fa Che cosa fa Che cosa fa Abbiamo due minuti Cerchiamo di Prenderlo Si L'abbiamo pure preso Oh Capriola Capriola Ragazzi Cercherò di impegnarmi Un bordello Per caso che Fritz È già morto Per caso Ragazzi E' un bordello Prenderli Perché il missile Diciamo Arriva sempre in ritardo Quindi dovrei sempre Anticipare Eccolo che arriva Eccolo che arriva Adesso cambia strada Adesso cambia strada Eccolo che arriva Ecco Adesso Devo andare a caricare E mannaggia Pensavo che si fermasse sopra Vado Ma vaffancapo Va No vabbè Dai No vabbè Mi sono suicidato No vabbè Cioè mi sono suicidato Perché ho colpito Assassin's Creed Mi sono preso lo scoppio Pure io Purtroppo Fritz È morto subito Ragazzi abbiamo perso Il primo round Perché mi sono suicidato Cioè per prendere lui Mi sono suicidato io Benissimo Adesso passiamo al secondo round Sperando che non crasha nessuno Adesso siamo noi ragazzi Ad usare L'insurgent Però ragazzi La vedo brutta Perché Allora se io riuscissi a salire Ecco Assassin's Creed è suicidato Perfetto Beh ragazzi Insurgente rosa Adesso ragazzi Bisogna assolutamente Prendere Lucain Ed è qualcosa di Trò simile Perché Lucain Dall'altra parte Ho sbagliato anche Raffa Ho sbagliato anche Raffa Grande Abbiamo vinto Ragazzi Ti sono Suicidati tutti e due Lucain ti sei suicidato anche tu Eh sì Ho colpito da Amico Fitz E purtroppo Pure come sono morto io prima Abbiamo vinto anche questo round Anche questo Abbiamo vinto questo round Siamo in parità Adesso dovrebbe essere No bisogna vincere due round Giusto? Sì 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 Vediamo adesso di riuscire di nuovo a Fare Guardate Amico Fitz quanto è sexy Eccolo qui con il suo giacchino tutto blu blu Allora ragazzi Eccoli qui Eccoli E lo prendiamo Madonna la potenza Di nuovo No 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 Olè Vai No vinto tutti e due Chiaramente ci vogliono tipo tre colpi di Infurgent Dai Peccato Ma Lucain sta qua sotto Lucain sta qua sotto Lucain sta Qua sotto Madonna L'è arrivato un po' di scoppio però Eh ragazzi L'è arrivato un po' di scoppio Dobbiamo fare un'attenzione malefica Allora qua Per prenderlo Per prenderlo Perché è andato giù Per prenderlo Olè L'abbiamo preso di nuovo Dai ragazzi Dai ragazzi L'abbiamo preso Assistive Che verrà Fermato Grande Grande Amico Fitz Che mi sa che l'ha colpito Mi sa che l'ha colpito Stanno già ricambiando L'insurgent Forse ragazzi Vediamo 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 Eccoli Che arrivano L'abbiamo preso E l'abbiamo Ripreso E ragazzi 3000 scoppi però Che seccatura 3000 scoppi Come bisogna far ad ammazzarli L'avrò questo già tre volte Non è scuso Adesso si sta cambiando No 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 Stavo cadendo Stavo cadendo Stavo cadendo Ecco Lucain ragazzi Ecco Lucain Olè Olè ragazzi Vai Freeze prendilo Ma che palle Che peccato Avete visto ragazzi Quanti colpi ha preso Attenzione da dietro Attenzione da dietro Attenzione da dietro Quanti colpi ha preso Lucain ragazzi Non è esploso L'avete sicuramente visto E l'ha stanzato Madonna E non è ancora esploso ragazzi Sarà il quarto missile che prende Non è ancora esploso Che scocciatura Eccolo E vabbè Fritz Che fai Se n'è andato Stiamo pure morendo ragazzi Perché Lucain se n'è andato sopra Allora Allora Adesso Eccolo che arriva Eccolo che arriva Eccolo che E l'abbiamo preso in anticipo Mamma mia L'ha scansata L'ha scansata L'ha scansata Missica ragazzi Eccolo che si è bloccato Ragazzi Io voglio cercare di Distruggergli le macchine da sotto Così non le possono tipo cambiare Però Eccolo Ecco che arriva Eccolo che arriva Non mi prende Adesso mi prende Adesso mi prende Adesso mi ha preso Ma non sono morto Ma non sono morto Ragazzi Vediamo se riusciamo a Sì Facciamo scoppiare tutto Facciamo scoppiare tutto Ragazzi Facciamo scoppiare tutto Vediamo Potremmo ragazzi Fargli scoppiare tutto Olè Si è preso pure la E l'ha scansato Ma porca miseria No 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 Ecco Niente Niente ragazzi 3200 colpi Per esplodere Eccolo Scusa Luca Quanti colpi ti ho dato Sull'insurgence giallo Wow Il problema Ce l'ho cambiato Quindi stavi Che si è confuso L'ho preso due Ah ecco perché Vedi è un casino Avete vinto voi Forse sì 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 Ok Ragazzi Abbiamo perso Questo LTS Perché A parte che Fritz si è fatto Ammazzare subito Purtroppo E Quindi Comunque mi sono divertito Molto Luke Saluta Saluti Salutiamo anche Amico Fritz Che sta a lui Silenzioso Silenzioso Salutiamo anche Assassin's Creed Ragazzi Sicuramente arriviamo Superiamo 50 mi piace Ovviamente Commentate Intanto faremo altri LTS del genere Condividete il video Su altri social network Ovviamente Seguitemi su Instagram E lasciate un like Sulla pagina di Facebook Quindi ragazzi Da questo video È veramente tutto Noi ci vediamo Al prossimo video Bella raga Ciao a tutti Ciao a tutti